carissimi pace buona giornata a tutti quanti voi dio benedica la vostra vita oggi grazie al signore 25 febbraio sono le 7 del mattino e come al solito ci ritroviamo insieme per leggere e meritare la parola del signore vi invito ad aprire con me la bibbia nel vangelo di marco al capitolo 14 leggeremo dal verso 8 dove sono riportate delle parole di gesù è scritto lei ha fatto ciò che poteva anticipato l'unzione del mio corpo per la sepoltura qual è la scena la scena è correlata a un luogo ben preciso vale a dire la città di betania gesù si trova in casa di simone il lebroso che era stato guarito e mentre la tavola entra una donna che aveva un vasso di alabastro pieno d'olio profumato e lo rompe e gli versa l'olio sul capo tra quelli che c'erano presenti alcuni si indignarono perché dicevano che quell'olio era stato sprecato e poteva essere utilizzato meglio ma gesù disse lasciatela stare perché le data noia ha fatto un'azione buona verso di me e poi aggiunse le parole che abbiamo letto cioè ha fatto ciò che poteva ed è bello considerare questa espressione perché innanzitutto scopriamo che il signore apprezza quello che noi facciamo nella misura in cui noi possiamo signore non ci chiede di più ma neanche permettetemi di meno il signore si aspetta che noi siamo pronti a dare ciò che noi possiamo dare e che siamo pronti a impegnarci nella misura dei talenti che egli ci ha affidato perciò dobbiamo riflettere sulla nostra vita e dobbiamo considerare se finora abbiamo fatto quello che potevamo fare perché sapete anche da questo verrà misurato il nostro impegno e la nostra devozione la donna che mise i famosi due spiccioli nella cassetta dell'offerte fu detto la parte di gesù che aveva messo più degli altri perché aveva messo tutto ciò che aveva il signore quindi non ci valuta in funzione del nostro dare ma in funzione di quello che noi tratteniamo per noi stessi allora dio ci dia grazia di essere generosi col signore come questa donna fu e di realizzare che tutto quello che noi facciamo per il signore sicuramente riceverà un premio tant'è che gesù dopo aver detto quelle parole lasciatela stare perché ha fatto ciò che poteva aggiunse in verità vi dico che in tutto il mondo dovunque sarà predicato il vangelo anche quello che costei ha fatto sarà raccontato in memoria di lei e il fatto che noi oggi siamo qui a raccontare quello che questa donna fece e la testimonianza del fatto che ciò che dio dice egli lo mantiene e allora cari tante volte abbiamo pensato se potessi essere se sapessi fare e nascondendoci un po dietro queste cose non abbiamo fatto nulla per il signore stamattina se riflettiamo bene ci accorgiamo che quello è stato un errore perché anziché rimuginare sui talenti che non abbiamo dovremmo ringraziare dio per ciò che siamo per quello che egli ci dà di essere e dovremmo essere pronti a impegnare le nostre capacità per la gloria del signore ricordo la testimonianza di un giovane cristiano che a causa della sua fede nel signore era stato aggredito da parte di alcuni che erano nemici della croce di cristo e questi lanciandogli dell'acido addosso gli avevano non solo rovinato il volto ma avevano rovinato le sue corde vocali perché in qualche modo l'acido era penetrato in bocca ed era sceso lungo la faringe rovinando appunto le corde vocali questo giovane era un predicatore in questo modo i suoi nemici pensavano di averlo zittito per sempre ma questo credente non si arrese e così cominciò a girare per i villaggi continuando a predicare l'evangelo come beh usando un registratore sul quale erano presenti delle prediche che aveva ricevuto a titolo di incoraggiamento da parte di alcuni credenti degli stati uniti d'america nazione da cui proveniva e questo gli permise di poter vedere altre anime che si presero a cristo e che accettarono il suo messaggio d'amore nella loro vita aveva fatto quello che poteva e dio ci aiuti fratelli e sorelle a fare quello che possiamo ea non fermarci dinanzi alle nostre incapacità e ai nostri limiti ma realizzare che con l'aiuto del signore possiamo sempre essere utili per la sua gloria per il progresso del suo regno perciò anche oggi fratello sorella amico e lo dico anche a me facciamo quello che possiamo e dio non mancherà di apprezzare i nostri sforzi e di rallegrarci con la sua presenza e con la sua benedizione nella nostra vita la pace e la grazia l'amore e l'aiuto di dio sia con tutti quanti noi ancora oggi dio ci benedica insieme grazie a tutti grazie a tutti